allora siamo diretti qua al cunecolo e che già ne può cominciare pure ad illuminare un attimo da sta parte da ecco aspetta mi sembra mi ricordo se sta ecco loco perché che ci compondiamo comunque sta d'altra parte stile con loco ma solo adorno attenzione che ne scivola qua sto e ecco dobbiamo entrare per il cunecolo o illumina stai fa una cosa ma puoi ripigliare sta funzionando ecco qua vado via attenzione che sto un po solo sto patto più stretto allungi la mano della testa scendi piano 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 ripigliate a questo è il mio giro di 18 io sono già ci visitate sa che con me in un'altra qua qua ci sta in un giro a da sta in un giro a da stare in un giro e in un'altra qua ok giusto da un attimo qua no no dammi vedere su allora ecco Gianni sta illuminare Gianni qui adesso io vado avanti e lui mi illumina ah questo è il National Z ma adesso Gianni sai che faccio io io vado avanti posso muovere illuminare tu log ha capito eh tu ti mantieni a una certa distanza sta funzionando io vieni qua guarda eh beh vieni però io per la cosa piccola non potevo vedere o no no ma non è questo il pianeta io vieni qua io che ci sono stato e quando ci sono stato quando ero piccolo sto vaschetto non lo ricordo ma non lo so comunque vieni qua sole ecco il problema non sa qual è e conta sempre meglio Gianni ma no come sbaglio vabbè questo è più che conosciuto allora e qua sotto ci si cala no adesso no adesso no ma no che non sto attendo mai cosa allora tu stai qua io ma questo che so ma tu vieni la vasca allora aspetti qua vado sotto eh scendo giù piano 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 attenzione che è qui c'è ora guarda qui c'è qua e guarda qui c'è qua c'è qua questa pezza secondo me è calda più così guarda qui c'è qua oh ma è rossa eh ma ah ma oak come è rossa guarda questa pezza io ho scumolato la pezza però non ci sono stato anche un po' di grado perché sta la sbaglio Vieni con la porta, dammi un attimino, puoi prendere una corda? Questa? Questa è un tubo ma non so che serve, questa qua cosa serve? Qua cosa serve? Ma guarda sopra! Oh ma sembra l'ora, no è l'acqua questa, sembrava l'ora, tu guarda! Comunque è rossa eh! Ho una sbaglia? E questi sono venuti chissà quanti anni fa, scusa un attimo Gianni, e questo qua? Su, che ne pensi di questo? Questa è rossa, questa è tutta cosa? Ho una sbaglia! Ecco secondo me c'è uno stato abitato! Allora ora, io gli ho detto tu rimani là oh! Eh no! Ma non è come rossa oh! Ma si vede come rossa? Quando è? Eh no! Allora quella tratta ci sono venuta, ma non credo che sto arrivando in questo luogo Gianni, non credo proprio! Aspetta eccoci la nozza! Aspetta, questa non è nozza! Ma secondo te questo non è nozza! Potrebbe essere nozza umana! Non lo so, comunque! Allora! Vediamo qua! Là, là! Ma come rossa! Oh! Aspetta, ma vai di innanzi eh! Che illumina! Allora! Viene qua! Au goito! Vediamo! Allora si vede a noi dai tu vede non mi do vila! I dai tu vede se del però! Allora si vede ma! Non si.. Poi dopo.. Poi dopo dopo.. Non ci stiamo.. No.. C'è un'obietta e io stai senti Non so che ci sono.. Non mi sono in dietro Non mi sono in dietro Non ci sono in dietro Ma si... perchè c'è la famiglia mia a te allora questo non mi sta a posto allora io ora entro qui ecco qua che ci sta a fare allora Gianni se ti avvicini qua sembra che finisci si però aspetta chi ha fatto un attimo il telefonino mio se ci riesci ecco qua bravo Gianni dopodichè cerchiamo ad andare fuori perchè se mi spingi un po' troppo là dentro o no? giusto? si il lumina qui ma sembra che finisci però ecco se vedi gli speleologi non so se quel buco si continua oppure là sotto loro si possono spingere più l'occhio anche aspetta allora facciamo da questa cosa ecco dammi un attimo la pila questa rossa dai allora tu no il lumina allora la sembra che finisci la sembra che finisci però se vedi gli speleologi se il tratto mi riesco a vedere quel tratto la non riesco a vedere poi Gianni scusa lo metti qua qui Gianni c'è un altro pezzo che va molto giù va giù la Gianni ah qua Gianni e come mai non ho messo non ho capito che serveva questo tubo questo qualcuno mi tappa qualche cosa a questo tubo non ce li hanno messo da bellemente e neanche ce li hanno messi da bellemente e neanche ce li hanno messi per giocare Gianni poi un tubo no ecco quel tubo questo è il mio tubo no 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 questo non lo so questo è il mio tubo poi la la prosegue senti la senti Gianni ci conviene tornare indietro ci torniamo indietro questo è una serie di pezzi fatti questo lo torniamo subito a regge noi noi dove siamo cavati noi da ecco siamo cavati ma vabbè Gianni vieni qua oh sei non vai no vieni qua vieni qua diamantino vieni qua vieni qua vieni qua sei andato a stupiare allora reggi qua dame se vedi ecco qui sono una sbaccionata